Eccoci, Natale 2022, grazie a tutti e tutti per essere stati qua anche questo anno a seguire il mio canale di terapie brevi. Spero vi sia piaciuto, spero che continuerete a seguirmi anche nel 2023. Ci saranno un bel po' di nuovi video, un bel po' di temi interessanti sulle terapie brevi per capire come fare, per capire come portarla avanti, per capire un pochino questo mondo che ormai va avanti fin dagli anni 60, anche da prima, e che è ancora troppo poco conosciuto. Quindi spero che mi seguirete, spero che seguirete anche i vari siti e canali dove porto avanti i miei progetti, i progetti con il mio team, il team dell'Istituto ICNOS insieme a Federico Piccirilli e dell'Italian Center for Single Session Therapy. Su istitutoicnos.it troverete tutti i prossimi corsi di informazione, sta per partire a febbraio il Master in terapie brevi dell'età evolutiva, il nuovo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia è ovviamente anche, però ormai credo che siamo full, siamo veramente pieni, e ovviamente tanti altri corsi come quello in terapia sola singola, a fine gennaio, in terapia breve c'è entrata sulla soluzione, ad aprile, nel mezzo ci sarà il workshop sul feedback informant treatment utilissimo e sulle nuove logiche. Insomma, andate su www.istitutoicnos.it o seguiteci sui social, seguite anche me su Instagram e su Facebook per tutte le novità. Grazie ancora e ora, ragazzi, visti i tempi, divertiamoci un po'. Questa particolare forma di relazione è fondamentale... Una veloce ricerca su Google Scholar ti dimostrerà che quando viene utilizzato il termine Strategic Psychology è utilizzato nell'ambito degli studi socio-politici... No, soprattutto nell'ambito delle scienze politiche. Analisi delle strategie di intervento. Una veloce ricerca su Google Scholar ti dimostra che quando viene utilizzato il termine... Strategic Psychology è utilizzato soprattutto nell'ambito delle scienze politiche per l'analisi delle strategie socio-politico-militari di nazioni o denti governativi. Ultimo video, 26, ecco come sarà la psicoterapia dei prossimi 10 anni, gli altri trend. Bella, ben, bella. Oggi avevo sfatto un tastoio, c'è la barba, le occhiaie, un mese a portato... Niente, non mi sono così, da un naturale... Pollici sistemici. Perché continuo di sistemici? Non c'è scritto sistema, ma che cazzo ho gli sistemici? Articolari muscolari scheletrici metabolici. Io do allora una semplice prescrizione. Molti diranno, vabbè, ma ci arrivavo anch'io all'esplosione delle terapie online, però io mi ricordo anche chi tre anni fa diceva che... Da psicoterapia a psicologia sembra perciò una sorta di sineddoche, che però comporta... Aspetta, ma dovevo diventare questa? Però poi ne metto i problemi. Passare da psicoterapia a psicologia però è un... No, è un bel gioco. Passare da psicoterapia a psic... Ce la posso fare, ce la posso fare, è un solo video, cazzo. Passare da psicoterapia a psicologia sembra perciò una sorta di sineddoche, che però provo... Ho fame anche. Fede si fa il caffè. Quindi dobbiamo attendere un attimo. Fede va in bagno. Dai, morite, su, vattene. E' proprio ballare per le scale, mentre giù, mamma notte mi ha insegnato che nelle scale non si parla, perché si fa casino e disturbi gli artisti che stanno facendo i video. Il 31 luglio, cazzo. Eh, molto interessante. Il disappunto di Marino. L'occhio omicida di Marino. Tadadak! Finito, ciao bene. Ciao, ciao.